La stenosia ortica è una delle patologie più frequenti che i nostri centri si trovano a trattare al giorno d'oggi, anche perché l'allungamento della vita media dei pazienti fa sì che la patologia degenerativa a carico della valvola ortica abbia trovato un'incidenza estremamente elevata. Le innovazioni di cui tanto si sente parlare da un punto di vista così informativo e giornalistico sono legate all'applicabilità del trattamento della stenosia ortica con delle procedure percutanee che vengono effettuate in sala di emodinamica dai cardiologi interventisti. Oggi, ancora a causa della scarsa conoscenza dei follow-up dei dati di durata a lungo termine, come attestato dalle società scientifiche internazionali nordamericane ed europee, il trattamento ideale per la stenosia ortica è quello chirurgico, perché offre i migliori vantaggi soprattutto in termini di sopravvivenza a distanza. Oggi il trattamento percutaneo viene riservato a quei casi in cui la chirurgia diventa non proponibile, dovuto a due condizioni fondamentalmente. Una è il fattore età e due le comorbidità. Comorbidità significa delle patologie che concorrono ad elevare il rischio per un eventuale trattamento chirurgico. Quindi pazienti ultraottantenni che abbiano delle controindicazioni per l'intervento chirurgico vengono trattati all'interno dei dipartimenti cardiologici medico-chirurgici come il nostro, con la sostituzione percutanea della valvola chirurgico. La chirurgia resta uno dei trattamenti fondamentali per questa patologia. Oggi anche la chirurgia si è innovata, perché la chirurgia che viene proposta oggi non è più la chirurgia che si faceva venti anni fa. Oggi esistono dei sistemi, delle protesi che vengono applicate con delle tecniche che sono il meno possibile aggressive nei confronti dei cuori, di questi cuori, che possono ridurre la durata dell'intervento e nei casi in cui si devono praticare degli interventi chirurgici combinati su più valvole o in cui si deve associare la rivascolarizzazione miocardica, possono ottimizzare il trattamento. Queste valvole si chiamano sutureless, sono valvole che vengono applicate senza dover cucire la protesi stessa sull'anello aortico. Quindi la valvola aortica viene spiantata come di convenzione e queste nuove protesi, che sono protesi biologiche, vengono inserite e rilasciate all'interno della radice aortica e grazie a un sofisticato sistema tecnologico per la struttura che è costituita di nitinolo si espandono da sole con il calore e previa una sovradistensione con un pallone possono offrire un ottimo trattamento alla patologia stessa. Il nostro centro è un centro pilota per il trattamento di queste patologie e per l'applicazione di questi prodotti, tant'è che è stato riconosciuto come centro di formazione per cui diverse equipe nazionali e europee vengono a effettuare dei periodi di training brevi di circa 48 ore in cui noi diamo inizialmente una informazione come dire a secco che con un termine inglese si chiama dry lab, un laboratorio a secco in cui i colleghi vedono come funziona l'applicazione del device e poi successivamente passiamo all'applicazione in vivo in sala operatoria. Questa modalità di trattamento ci ha consentito di poter trattare pazienti a rischio medio alto con grossa soddisfazione per il paziente e per noi stessi e ci ha consentito anche di poter insieme ad altri gruppi del nord Europa portare la nostra esperienza al prossimo congresso mondiale di cardiochirurgia che si terrà a Toronto a fine aprile. Questo è un modello di una valvola aortica che viene impiantata nel metodo convenzionale, vedete la valvola aortica biologica, questo modello rappresenta una radice aortica, una aorta ascendente, l'approccio chirurgico viene fatto attraverso un'incisione della aorta ascendente e la valvola dopo aver spiantato la valvola nativa ed effettuata la decalcificazione dell'anello aortico viene impiantata apponendo dei punti di sutura circolarmente su tutto l'anello. La valvola viene poi paracadutata all'interno dell'anulus aortico e quindi i punti vengono annodati al fine di avere una sutura omogenea e attenuta della valvola stessa. Dopodiché la aorta viene chiusa. Questo è il trattamento che invece viene effettuato con l'approccio percutaneo, quella che con un acronimo inglese si chiama TAVI e in pratica che è una valvola che viene espansa all'interno della aorta nativa, la valvola nativa non viene spiantata, le calcificazioni presenti non possono essere rimosse e la valvola viene aperta all'interno della radice aortica con una guida fluoroscopica. Questo invece è il modello della valvola di cui abbiamo parlato adesso. È costituita da nitinolo, da una gabbia di nitinolo sulla quale è applicata una valvola biologica di pericardio bovino e la valvola nativa viene espiantata, l'anello decalcificato come di convenzione e questo consente di minimizzare i rischi dell'impianto stesso e la valvola rilasciata all'interno della radice aortica aperta sovradistesa con un pallone e quindi ad alta pressione e quindi la aorta viene richiusa. I tempi di durata di questa procedura nel tempo tecnico centrale che noi chiamiamo tempo di clampaggio aortico vengono ridotti a meno di 15 minuti contro i 50 che sono necessari per il trattamento convenzionale. Capite bene come questo consente di minimizzare i tempi di intervento e favorire il recupero immediato nel post-operatorio. Ulteriore vantaggio poi ha questa valvola perché può essere applicata con grande facilità in interventi effettuati in chirurgia mini-invasiva.